I dati dell'Ars Toscana ci rendono un quadro storico aggiornato dell'andamento della pandemia in Toscana e ad Arezzo da febbraio ad oggi. In particolare l'andamento dell'epidemia in timelapse ci dà la possibilità di comprendere nella nostra provincia quando sia finita la tregua estiva la breve stagione di contatti zero. Si vede attraverso il manifestarsi dei pallini rossi che la recrudescenza del virus inizia tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Questo lo sapevamo già, ma vederlo graficamente rende ancora più visibile quanto la seconda ondata sia stata rapida e violenta. Un altro dato interessante è rappresentato dalla prevalenza dei casi positivi per 100.000 residenti divisi per provincia. Il dato della provincia retina, aggiornato al 23 novembre, è leggermente superiore alla media della Toscana. Il più alto è quello di Prato, il più basso è quello dei nostri colleghi di Asl, Siena e Grosseto. Attraverso i dati dell'Istituto Superiore di Sanità si deduce anche il luogo del contagio per provincia in termini percentuali. La famiglia è sicuramente comunemente indicato come il luogo prevalente di contagio, 48% ad Arezzo, 7,26% nel luogo di lavoro. Il 25% dei casi sono sviluppati in altri luoghi non specificati. Dagli altri dati dell'Arts si deduce poi che la provincia di Arezzo abbia il più basso rapporto percentuale tra casi positivi e deceduti, 1,3%. La media toscana è del 2,36%, il picco a Massacarrara con il 4,44%. Grazie. Grazie.